Anche le piscine all'aperto ripartono, c'è tanta emozione da parte dei nuotatori. Questa mattina siamo venuti qui al Parco della Pace a trovarli. La voglia di tornare a tuffarsi dopo nove lunghi mesi di chiusura, i più appassionati ci hanno già provato nelle prime ore del mattino, ripartono le piscine all'aperto per la gioia dei nuotatori, che sono potuti tornare al Parco della Pace nel quartiere Soria di Pesaro, unico impianto aperto in provincia, poiché è il solo ad essere dotato di una vasca esterna. Dal primo giugno, assieme alle palestre, dovrebbero poi poter riaprire anche le piscine al coperto, misurazione della temperatura all'ingresso e mascherina su fino all'entrata in vasca, una doccia all'aperto con tanto di prese per i fond e tre tende per cambiarsi. Queste le novità. Gli spogliatoi per ora restano chiusi. Sta andando bene, il tempo ci assiste, le persone sono bravissime perché rispettano tutte le regole che abbiamo chiesto di rispettare e devo dire che funziona. Adesso ancora è un po' freschino, però l'acqua è riscaldata, la riscaldiamo a 28 gradi e mezzo. Abbiamo predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie per operare in modo tale che non avvenga il contagio. Qui siamo molto sicuri perché in ambiente clorato il cloro uccide il virus e quindi si è ancora più sicuri, poi all'aperto e distanziati i problemi qui non dovrebbero esserci. Abbiamo l'unica piscina olimpica della regione Mar che sono 1100 metri quadri, quindi più di 100 persone potrebbero frequentare contemporaneamente la piscina. Abbiamo un sacco di posti dove cambiarsi all'aperto e direi che è il momento giusto per ripartire. Qui non sono solo nuotatori ma ci sono anche delle palestre, quindi si fa anche fitness. Abbiamo previsto dei percorsi che non prevedono mai di incontrarsi e quindi si entra in un punto e si esce in un altro punto. Tra gli appassionati nuotatori anche il parroco pesarese Don Marco Di Giorgio. Meraviglioso, sto per piangere, sono commosso, è bellissimo. Non vedevo l'ora, una gioia, è proprio la gioia pura. Vedere la piscina riaperta, stupendo. Guarda, è stato un ritorno meraviglioso, non aspettavamo altro. Siamo allenati grazie al gestore della piscina. Noi agonisti tutto l'inverno ma in condizioni un po' di difficoltà. Nuotare all'aperto è fantastico, è veramente una cosa che ci fa sentire di ritornare quasi alla normalità. E per noi che facciamo gare è veramente una bellissima cosa poter ricominciare veramente a nuotare, pensando anche qualche gara da fare durante la stagione, nelle migliori condizioni. Aspettiamo solo un po' di soli in più e poi sarà tutto fantastico.